Un cordiale saluto dalla redazione del TG6 e benvenuti a questo nuovo aggiornamento del nostro telegiornale in apertura. L'aggiornamento dei numeri della pandemia della nostra regione. Oggi in Abruzzo 85 i nuovi casi positivi di età compresa tra i 2 e i 95 anni al Covid-19. Sono stati eseguiti 3049 tamponi molecolari e 5673 test antigenici. Non si registrano nuovi deceduti, i nuovi guariti sono 135, mentre gli attualmente positivi sono 2186. 72 sono i ricoverati in area medica, meno 6 rispetto a ieri, 6 in terapia intensiva con un nuovo ingresso. 2108 persone sono in isolamento domiciliare. Dei nuovi positivi 16 sono residenti in provincia dell'Aquila, 25 in quella di Chieti, 26 in provincia di Pescara e 20 in quella di Teramo. E noi cambiamo argomento. Alcuni cittadini pescaresi e dell'area metropolitana, capitanati dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, hanno protestato sotto la sede della regione in Piazza Unione per la carenza di acqua che ormai perdura dall'inizio dell'estate. Pettinari ha annunciato di aver chiesto al Presidente della Giunta regionale, Marco Marsiglio, di riferire rispetto ai provvedimenti che l'ente ha messo in campo o intende prendere per risolvere la situazione e sanare le reti. Colabrodo, il servizio di Alfredo Primante. In una delle stati più torride degli ultimi anni, migliaia di cittadini pescaresi e dell'area metropolitana hanno dovuto fare i conti con l'assenza di acqua. Dall'altra parte la beffa con i costi in bolletta che aumentano sempre di più. Domenico Pettinari, Vice Presidente del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, ha portato il caso in regione per capire, proprio dall'ente sovraordinato, quali siano state le azioni per cercare di sanare le reti Colabrodo. Vergognoso che nella regione dei parchi, nella regione verde, nella regione delle sorgenti, abbiamo una carenza idrica senza precedenti. Ci sono racconti, famiglie che da 90 giorni stanno senza un goccio d'acqua, con disabili minori in piena crisi pandemica. Chi avrebbe dovuto fare cosa? Ci sono enti, le società di gestione e servizio idrico integrale, in questo contesto l'ACA, non sono società enti terzi, società astratte. Sono società interamente pubbliche, i cui soci sono i comuni e quindi i sindaci approvano i bilanci, quindi approvano l'operato dell'azienda, votano i vertici e poi ce li sentiamo puntare il dito contro la società, come se puntassero il dito contro loro stessi. Questa è una cosa che mi fa rabbia, la dobbiamo smettere, i cittadini devono sapere, l'ACA non è una società terza, sono i sindaci, i comuni che sono soci, azionisti di queste società e quindi ci devono dire che cosa si sta facendo. Con la tariffa, la tariffa che aumenta ogni anno, i cittadini pagano a fronte di un non servizio, perché non si fanno le opere di riefficientamento delle reti? Punto di domanda. Ho portato in caso il Consiglio regionale, perché la Regione tramite l'Ersi governa, vigila e controlla il servizio idrico integrato e l'Ersi, quindi la Regione, ha il dovere di attrarre finanziamenti, finanziamenti nazionali, finanziamenti europei per rifare le reti. Quindi ho chiesto al Presidente Marsiglio di venire in Aurea a riferire se hanno una mappatura di tutte le reti, qual è la pressione, quali sono le perdite, quali sono gli finanziamenti, i contributi che ci sono stati, so che addirittura nel Masterpal ci sono stati oltre 100 milioni di euro per rifare le reti e cosa si è fatto con questi soldi, se sono stati cantierati i lavori, se sono partiti, che cosa si sta facendo? Io mi auguro che risponderà breve. Perdite idriche che arrivano anche al 70% dell'acqua immessa nei tubi e cittadini che sono esasperati dalle carenze idriche e dalla necessità di doversi alzare anche la notte per poter sbrigare le faccende di casa. Da quanto tempo ha problemi? Allora, i primi di giugno noi non abbiamo acqua e ce l'ho soltanto la notte, quindi io la notte mi devo alzare per farmi la doccia, per fare i piatti, per fare tutte le mansioni domestiche. Questa situazione è insostenibile e abbiamo bacinelle in casa, bottiglie, cioè dobbiamo alzarci la notte per fare le mansioni di casa, l'ho detto tutto. La politica, l'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo è tra i candidati a sindaco per le prossime elezioni a Sulmona. A sostenerlo ci sono sette liste civiche e tra i punti fondamentali del suo programma c'è il turismo. Ascoltiamolo. Il cuore del nostro programma elettorale, dicevo che la nostra sarà un'azione rivoluzionaria in questo senso, Sulmona ha sempre puntato poco sul turismo, Sulmona è una delle città più belle d'Italia e una delle città più belle d'Abruzzo, ha una sorta di palcoscenico naturale, di straordinaria bellezza. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questo palcoscenico di straordinaria bellezza venga mostrato all'Abruzzo, all'Italia e all'Europa intera per attrarre turisti che già ci sono perché noi abbiamo un territorio a noi vicinissimo che è l'Altrosangro che registra presenze per oltre un milione e mezzo, due milioni l'anno. Ecco, attrarre quel turismo, dare la possibilità a quei turisti di vedere le bellezze di questa straordinaria città. Il primo ad opporsi alla chiusura del punto Nascite, voglio ricordarlo, è stato il sottoscritto quando in una votazione drammatica in Consiglio regionale io votai contro la mia stessa maggioranza e quindi votando a favore del punto Nascite. Credo che oramai le condizioni ci siano tutte, ovviamente la rete ospedaliera deve essere ancora discussa in regione, spero che la regione lo faccia quanto prima per mettere quanto meno in sicurezza il punto Nascite. Io credo che sia l'unico strumento attraverso il quale i territori possono far sentire la loro voce. I partiti è in dubbio che a livello locale hanno fallito la loro azione, i partiti non sono più quelli di una volta. E' l'unico modo per far ascoltare la voce del cittadino a livello regionale, a livello centrale, è proprio la costituzione di gruppi civici. Venerdì prossimo, 17 settembre, alle 17.30 a Pescara si terrà un convegno dal titolo Giornate Particolari, la gestione dei grandi eventi nello spazio urbano. Ospite tra gli altri il ministro dell'interno Lucian Lamorgese. L'appuntamento costruirà un momento di riflessione sulle valenze ma anche sulle problematiche che pone l'organizzazione dei grandi eventi all'interno delle città. A seguire alle 21 ci sarà il concerto di Orietta Berti presso l'Arena del Mare di Pescara, evento che servirà anche a raccogliere fondi per il ripristino della pineta d'Annunziana distrutta dall'incendio dello scorso agosto. Vediamo. L'evento che faremo venerdì 17 alle 16.30 in piazza Ettore Troilo, che è la piazza che sta di fronte al tribunale di Pescara, e rientra in questo filone che abbiamo avviato il 23 luglio con quale città, cioè ragionare le città come grande organismo da cui ripartire. E l'incontro di venerdì è dedicato proprio al tema dei grandi eventi, cioè le grandi manifestazioni, le grandi iniziative che fanno conoscere un ingrandimento, un ingigantimento della città sia per le funzioni che svolge, sia per le persone che vengono, sia per la qualificazione delle sue funzioni, i grandi eventi internazionali, ma anche poi quelli nazionali, che sono poi un fatto specifico e peculiare della città, che è il motivo per cui la città in quel giorno si fa mondo o si fa nazione. Certo questa che è una grande opportunità per una città, basti solo pensare a cosa è accaduto a Torino dopo le Olimpiadi del 2006, è anche un momento di rischio, un momento di sforzo per la città, è un momento in cui emergono criticità per il numero delle persone che arrivano, per il numero dei servizi che vanno erogati, per i rischi connessi sia in questo momento alle questioni epidemiologiche, sia ai rischi di ordine pubblico, di sicurezza, della qualità della vita dei cittadini che sono nelle città. E questo quindi è un tema su cui la comunità scientifica internazionale si confronta da tempo, ma è bene che anche qui si organizzi un confronto, sia mettendo in campo le intelligenze dell'Accademia, gli intellettuali, ma anche confrontandoci con i decisori pubblici, con gli imprenditori, con coloro che hanno organizzato manifestazioni di questo genere, proprio per sostanziare anche su questo aspetto uno dei capitoli di quella carta delle città di Pescara con cui vogliamo dire come deve essere la città nuova. E quindi sarà un grande pomeriggio di lavoro e siamo convinti che produrrà dei grandi risultati. E' stato presentato ieri nell'auditorium del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara un libro che festeggia i 50 anni della statizzazione dell'Istituto. Vediamo. Il Conservatorio Nella Città e il libro scritto dai docenti Anna Maria Ioannoni Fiore e Riccardo Graciotti è dedito dalla Libreria Musicale Italiana e l'occasione è stata quella di celebrare i 50 anni dalla statizzazione del Conservatorio di Pescara Luisa D'Annunzio avvenuta nel 1969. Il libro è stato presentato ieri alla presenza tra gli altri del presidente Maurizio Di Nicola e del direttore Alfonso Patriarca. Una storia di didattica musicale ormai equiparata a quella di un ateneo vista la valenza dei titoli accademici che rilascia e che si inserisce con pieno merito in quella dinamica di una città come Pescara cresciuta così vistosamente dal dopoguerra. Nel libro c'è anche un appendice in cui sono indicati i nomi di tutti i diplomati dal 1969 all'anno accademico 2019-2020. Il punto di vista del compositore Francesco Antonioni presente anche egli all'evento. Il Conservatorio è un'istituzione molto importante perché crea cultura, accende fuochi da dove sembra che il fuoco sia spento ed è importante certamente per la città di Pescara, per la provincia, per la regione ma vorrei cogliere l'occasione delle tre bandiere che sono detto di me perché davvero un conservatorio, diciamo così, la musica che non ha bisogno di parole si confronta a livello europeo, a livello internazionale, a livello mondiale e quindi questo gesto di orgoglio da parte del Conservatorio di Pescara di sottolineare l'importanza della sua storia e del suo futuro mi sembra un punto fondamentale potersi confrontare alla pari, perché no, con le altre istituzioni analoghe che si trovano nel resto dell'Italia e in Europa. Forte il legame con Gabriele D'Annunzio e non solo perché il Conservatorio è intitolato alla madre del Vate, Luisa. Negli ultimi vent'anni, trent'anni, sono diventate molto diffuse le cosiddette sound walk sound walk vuol dire camminate sonore ebbene, la pioggia nel pinetto di D'Annunzio è una sound walk scritta forse cento anni prima che venisse, no, cento anni no però cinquanta anni prima che venisse pensata un'idea del genere dal punto di vista acustico Gabriele D'Annunzio l'aveva già realizzata in una poesia. Primo incontro tra tutti gli enti che si occupano di nautica in Abruzzo l'obiettivo è quello di creare un comitato consultivo che possa rappresentare alle istituzioni con una sola voce tutte le problematiche del settore Vediamo Fare sistema è la parola d'ordine dell'incontro nell'ambito di Aspettando Sottocosta 2022 22 tra tutti gli enti abruzzesi che si occupano di nautica e di Porto in particolare dunque una giornata per incontrarsi e per decidere se costituire un board che porti una sola voce alle istituzioni rispetto alle problematiche del settore Fare sistema è importante in un settore come la nautica di Porto che ha un moltiplicatore economico, occupazione, sport anche in termini sociali ma non si rappresenta né viene considerata per il valore che invece esprime Quindi abbiamo voluto chiamare i circoli, i rimessaggi, i porti della costa abruzzese per l'idea di fare sistema, di rappresentare tutta la nautica abruzzese per il valore che esprime e quindi magari costituire un advisory board regionale che non si sovrappone alle attività Dragaggio, approvvigionamento di carburante e turismo questi alcuni dei temi dibattuti nell'incontro di questa mattina È un'iniziativa proposta da Asso Nautica che come sappiamo è promossa dal sistema camerale nazionale e che raduna tutta la filiera della nautica al proprio interno quindi ci è sembrato giusto e doveroso accogliere questo invito cioè quella di mettere insieme tutti quelli che hanno voce nell'ambito della nautica porti turistici, circoli, associazioni, federazioni perché ci siamo resi conto che nonostante l'importanza di questo movimento per il PIL regionale non siamo mai stati rappresentati da un'unica voce e questo comporta una certa sottovalutazione da parte dei decisori pubblici nei confronti di questo settore Una fra le tutte è la possibilità di avere un rifornimento di carburante che all'interno del porto diventa estremamente problematico in quanto vengono serviti i pescherici che hanno un regime agevolato il di porto è escluso in quanto un gestore che lo faccia non si riesce a trovare immagini lei andare con le danichette con un divieto di bunkeraggio esistente per fare il rifornimento diventa problematico anche per il transiti lei consideri che noi l'anno scorso in regime di lockdown al porto divasto abbiamo avuto 190 transiti di barche tutti quanti di dimensioni importanti, di caratura importante per l'insabbiamento che c'è e se si parla di un porto di notevole dimensioni è vero che è più grande il problema dell'insabbiamento ma è anche vero che le risorse sono maggiori per affrontarlo ma per un piccolo porto come il nostro, i 240 porti di barca pensare di avere periodicamente ogni anno un problema di dragaggio con le spese che ci sono di oltre 50-60 mila euro all'anno diventa quasi un elemento che ti costringe a chiudere siamo quattro porti in Abruzzo abbiamo delle prerogative diverse l'uno dall'altro però ci unisce dal punto di vista dello sviluppo turistico ci unisce il territorio quindi se riusciamo a fare sistema legando i quattro porti e legandolo al territorio credo che riusciremo a fare un'offerta turistica unica a livello italiano e a livello europeo Siamo alla pagina dello sport domani alle 17.30 il Pescara sfiderà la Vis Pesaro all'Adriatico Auteri mette nel mirino le tre vittorie consecutive per eguagliare quelle di Galeone nella stagione 91-92 e fa debuttare Rasi che sostituirà lo squalificato Zita, il servizio di Andrea Costantini Gaeta Noteri sereno ma ha deciso la vigilia del match con la Vis Pesaro squadra, precisa il tecnico Biancazzurro, da battere sul campo non esiste alcun presunto divario tecnico specie poi quando le partite con Ancone e Carrarese hanno dimostrato come il Pescara debba crescere nella concentrazione e nella capacità di chiudere il match quando si è in vantaggio ora noi non dobbiamo minimamente pensare che ci sia differenza ma chi l'ha stabilito il campo lo stabilisce noi lo dovremmo dimostrare in campo non mettendoci solo la parte importante che è quella tecnica le partite di calcio si giocano sotto tante componenti quindi noi la parte agonistica, la parte consistente la parte solida oltre che lucida dal punto di vista offensivo la dobbiamo sempre mettere in campo questa è una squadra pericolosa, solida, forte, organizzata i cui contenuti tecnici in alcuni giocatori sono discreti per la categoria anzi in alcuni anche contenuti tecnici importanti pensiamo alla partita è una partita che dobbiamo vincere io conosco un solo modo per vincere le gare dimostrare di essere superiore all'avversario Out, Bocic, Chiarella e lo scorificato in Zita per la cui sostituzione questa volta Auteri si sbilancia e lo svela sarà impiegato Rasi al suo debutto ufficiale Ianes a disposizione Mandra in panchina migliorano le condizioni di De Marchi in ballottaggio con gli altri attaccanti per il ruolo di centravanti Dursi a sinistra a destra Clemenza in vantaggio su Galano al quale Auteri riserva un altro pungolo col sorriso sulle labbra Di Galano non dirò mai bene perché lui ha tante di quelle qualità che se decide di metterle al servizio della squadra veramente al 100% sempre, quotidianamente noi lo coglieremo sempre a braccia aperte nel frattempo ne abbiamo già parlato si è chiuso il mercato è molto migliorato è molto cresciuto Sul fronte a Vispesaro il tecnico Banchini sarà privo del suo elemento più pericoloso l'argentino Martin Tonso dopo la multifrattura al viso riportata con il Ponte d'Era farà parte della spedizione all'Adriatico il centrocampista Coppola che potrebbe partire dalla panchina dopo i 10 punti di sutura al capo rimediati sempre domenica scorsa al suo posto potrebbe toccare al giovane astrologo contrattempo delle ultime ore per la mezzala d'attacco Marco Andella autore di un gran gol col Ponte d'Era ma vittima di un affaticamento muscolare giovedì in allenamento in caso di forfè Rossi è candidato alla sua sostituzione rientra Gavazzi al centro del trio di difesa nel 3-5-2 che sarà varato da Banchini l'ultimo precedente tra le due squadre all'Adriatico è targato dicembre 2002 con vittoria del Delfino 1-0 firmata da Cecchini pochi mesi prima ad aprile Blitz-Vissino 2-3 con doppietta decisiva di Borneo e gol di Marta a vanificare i centri di Di Fabio e Palladini direzione di gara per Frascaro di Firenze nessun precedente col Delfino 1-0 con vittoria per la Vis Auteri potrebbe eguagliare il record di Galeone di tre vittorie consecutive ad inizio stagione questa la reazione del tecnico siciliano Onore al merito a questi nomi che appartengono alla storia ma secondo me c'è troppa differenza fra l'ora e ora loro erano sulla luna noi siamo sulla terra Teramo domani impegnato al Braglia contro il Modena trasferta complicata per i biancorossi che lasciano a casa Montaperto e Di Dio ancora indietro di preparazione Bois in vantaggio su Aziosmanovic per partire dall'inizio sulla corsia di destra di difesa Rossetti Viero altro ballottaggio in mezzo mentre davanti potrebbe essere confermato il tridente con Bernardotto Malotti e Rosso il tecnico del Teramo Federico Guidi di conta di confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime due uscite per cercare il colpaccio in terra d'Emilia anche se con qualche cambio nell'undici iniziale vediamo la squadra che affronteremo domani il Modena è una squadra di grandissima esperienza di grande struttura di fisicità di grande qualità tecnica allenata da un allenatore vincente di grande esperienza quindi insomma è una partita come le altre due ad alto coefficiente di difficoltà che sapevamo all'uscita del calendario il nostro inizio fosse così complicato detto questo io mi aspetto che i ragazzi riescano a mettere in campo quella che è la nostra mentalità quella che è la nostra identità che ci deve contraddistinguere contro chiunque noi dobbiamo avere rispetto e preparare la partita al massimo contro chiunque qualsiasi sia il nome e la difficoltà della gara ma in campo noi vogliamo essere propositivi cercando di di essere di fare un calcio in cui i calciatori si riconoscono protagonisti cercando di voler voler la palla e cercare di andare così facendo a mettere in difficoltà qualsiasi qualsiasi avversario è una partita difficile una partita che loro hanno esperienza nel reparto arretrato con pergref ingegneri se ci sarà silvestri hanno grandissima qualità in mezzo al campo unita a tanta fisicità mi riferisco a Gerli Armellino Scarcella ma lo stesso di Paola che ho avuto anche il nazionale under 20 e poi la tantissima qualità che dispone nel reparto avanzato con Tremolada Munesso Mosti Marotta o conseiller che abbinano tecnica uno contro uno attacco agli spazi capacità fisica e abilità nel gioco aereo insomma è una squadra in cui dobbiamo stare iperattenti in ogni situazione di gioco perché sono pericolosissimi però è altrettanto vero che noi vogliamo giocarcela in maniera coraggiosa cercando di emozionare la nostra gente senza precluderci di poter fare un risultato positivo ma nel calcio impossibile non esiste non c'è niente di impossibile chiaramente noi dobbiamo come ho detto prima dobbiamo avere il coraggio di provarci anche perché se no vivremo di rimpianti di poter far qualcosa e di non aver provato a farla noi questa cosa qua non dobbiamo nemmeno pensarla minimamente e soprattutto non dobbiamo speculare sugli avversari non dobbiamo scommettere nella dea bendata noi dobbiamo giocare la partita e cercare di determinarla con quelle che sono le nostre caratteristiche le nostre le nostre idee perché la squadra si allena per fare certi tipi di cose noi ci vogliamo provare e questo tutte le domeniche sarà così mai mi sentirete dire mi accontento di un pareggio in casa modenese Tesser potrebbe valutare qualche cambio di formazione Silvestri dovrebbe rientrare tre giocatori a disposizione ancora out invece Renzetti e da valutare le condizioni di Ciofani a centrocampo Di Paola troverà quasi sicuramente una maglia da titolare a scapito di uno tra Armellino e Scarsella che giocherà di certo il fantasista Luca Tremolada che chiama raccolta il tifo giallo-blu noi intanto ascoltiamo le parole del tecnico Emiliano ho bisogno di trovare prima possibile non solo la condizione migliore che è arrivato dopo ma soprattutto un'amalgama di personalità in questo momento perché è quello che dobbiamo ricercare maggiormente sotto questo aspetto di esperienza di personalità questi giocatori mi danno al momento qualcosa in più quindi l'inizio sarà questo nella consapevolezza ho detto più volte che spesso è chi entra che determina le partite però a livello iniziale di approccio di mentalità porto avanti ancora gli undici di partenza del derby io guardo le partite e guardo gli avversari sono andati in casa della Virtus Entella hanno fatto partita per tutti i 90 minuti uno mi dirà 2 a 0 si calcio di punizione o calcio d'angolo in porta l'Entella non hanno quasi mai tirato loro hanno avuto 4 o 5 clamorose palle gol migliori in campo per l'Entella il portiere è una squadra che gioca in avanti sbarazzina ha fatto uguale con il Siena leggermente più equilibrata per un pezzo di gara e poi l'hanno condotta loro squadra molto giovane molto dinamica propositiva offensiva super offensiva questo è quello che l'analisi della partita delle due partite che hanno fatto ha evidenziato se andate a guardare e a leggere i commenti dei vostri colleghi su quelle due partite vedrete che non si discostano più di tanto dalla mia analisi fanno un preso pazzesco asfiziante nato proprio dal dinamismo dalla gioventù di un'aggressività molto molto forte e lì dovremmo essere bravi lì ci può stare una parte anche tattica di partita su quella loro grande pressione che fanno come saperne uscire uscirne bene scendiamo di categoria domani il Nereto sarà l'unica abruzzese di Serie D a scendere in campo per il turno preliminare di Coppa Italia in casa del Porto D'Ascoli alle ore 15 ieri intanto la squadra e la società del presidente Luciano Bartolini si è presentata in piazza davanti a cittadini e tifosi vediamo sarà difficilissimo lo sappiamo è uno dei gironi più complessi in Italia però ho anche immensa fiducia primo nel paese nell'amministrazione che ringrazio per tutto il sostegno che ci hanno dato ma soprattutto permettetemi di dire che ho dei ragazzi speciali perché in questo mese sono andati oltre ogni più rosa aspettative stasera sono molto felice perché vedo che avete apprezzato quello che abbiamo fatto insieme al sindaco che ringrazio ancora una volta insieme all'amministrazione ad Angela Augusto che questa sera non vedo questa società questa categoria senza di voi senza il vostro aiuto non può esistere è vero e quindi ve lo chiedo oggi qui sul palco noi siamo qui per farvi felici e per condividere con voi questa cosa che è bellissimo il calcio è insomma uno dei giochi più popolari del mondo ma se non lo si fa insieme se non lo si condivide non serve niente quindi noi li accorgeremo a braccio aperti e insomma aspettiamo che ne verrete in tanti a darci una mano che insomma ci sosterrete la domenica e una cosa ve la prometto qui oggi è il giorno della presentazione questa squadra rimarrà qui per sempre quindi domenica 19 settembre si disputerà la 74esima edizione del trofeo Matteotti in tempi difficili questa storica competizione sportiva riesce a mantenere la sua continuità i motivi li spiega il presidente onorario Renato Ricci al microfono di Paolo Renzetti Presidente Renato Ricci c'è sempre quando si parla di ciclismo quando si parla di Matteotti lei tre anni fa ha ceduto lo scettro a Daniele Sebastiani però lei insomma è sempre in prima linea sono in prima linea responsabilità di Daniele su cui ho puntato quindi come se fossi io quindi ci credo e ci ho sempre creduto e in questo momento posso dire che era l'unico che poteva portare avanti il Matteotti se no il Matteotti si fermava di questi tempi è ancora più difficile organizzare manifestazioni sportive alla fine con l'aiuto di tutti si è riusciti ad arrivare al traguardo di questa settantaquattresima edizione ma sempre nella vita i successi si fanno con le persone che ha intorno in questo caso io ho avuto tante persone vicine che hanno contribuito a fare il trofeo Matteotti in questo caso c'è uno che Dino Renzetti che continua da Fulvio Perna con me e con Daniele e poi c'è Stefano Giuliani che è un appassionato di ciclismo ex corridore professionista ama Pescara come la amiamo noi quindi è chiaro che veramente adesso il peso ce l'ha Stefano Ricci qual è lo stato di salute del ciclismo abruzzese? lo stato di salute io direi dello stato italiano diciamo italiano purtroppo è inutile che facciamo i politici sono anni che manca qualcosa che una volta c'era perché una volta negli anni settanta mi ricordo che Perna non sapevo quanti corridori importanti venivano perché ce n'erano tanti così negli anni ottanta così negli anni novanta senza che nessuno mi possa contraddire negli ultimi anni purtroppo il ciclismo italiano ha qualche problema potete rivedere i nostri servizi sul nostro canale social youtube e al sito www.tv6.it grazie per averci scelto e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per averci scelto